Bene ritrovati amici di Televalassina. Siamo nel sacro tempo di Pasqua che dura 50 giorni. Vogliamo cogliere l'occasione per approfondire con Don Donato il tema della morte, ma anche del giudizio e della vita dopo la morte. Dio è misericordioso, ma Dio è anche giusto. Dopo questa vita ci verrà dato un premio o una condanna secondo il nostro comportamento. E' importante quindi parlare di quello che una volta nel Catechismo si chiamavano Novissimi. Ecco Don Donato, che cosa sono i Novissimi? I Novissimi sono le cose ultime, derivano da una parola latina, Novissima, che parla delle cose escatologiche, cioè gli ultimi avvenimenti della vita terrena di un uomo che aprono alla vita eterna, alla vita dopo la morte. Sono appunto il giudizio, la morte, scusate, il giudizio, l'inferno e il paradiso. Sono quello che succederà per tutti gli uomini e le donne, credenti o no, nel momento della morte e subito dopo la morte. In questi ultimi decenni osserviamo l'assenza nella predicazione e nella catechesi del tema che riguarda i Novissimi, ossia la morte, appunto, come hai detto, il giudizio, l'inferno e il paradiso. Sembra che vi sia un certo timore a parlarne, quasi si teme di offendere l'udito degli ascoltatori. Cosa ne pensa Don Donato? Questo penso sia dovuto al fatto che purtroppo noi uomini di questo secolo pensiamo di essere eterni, di essere immortali. Quindi ci dà fastidio parlare della morte, ecco, ci dà fastidio vedere la morte. Addirittura nascondiamo la morte, appunto, non portiamo più i nostri cari defunti magari nelle nostre case. Certo, magari perché non ci stanno, perché i nostri appartamenti sono più piccoli, ma anche perché non ci piace avere in casa i seni della morte e quindi tutto quello che è legato alla morte, ecco, ci dà fastidio. Allora preferiamo non parlarne, se non magari poi scimbiottarla in un altro periodo dell'anno. Ma è interessante che però questa cosa ha portato anche a perdere la speranza, perché se noi non parliamo più della morte non possiamo neanche pensare a cosa ci sia dopo la morte. E quindi ci sarà una vita dopo la morte? E se c'è, come sarà? Dove andremo? Cosa faremo? Cosa succederà? I nostri cari che non ci sono più? Che fine hanno fatto? Ecco, quindi dobbiamo innanzitutto recuperare non la paura, ma il senso della morte, che è un senso del limite. Non è che possiamo fare tutto quello che vogliamo, ci devono essere dei limiti. E il limite ultimo per tutti gli esseri umani, anzi per tutte le creature, per tutti gli esseri della Terra, è proprio il momento della morte. Anche le piante muoiono. La Sacra Bibbia, Don Donato, afferma che Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Ecco, dovremmo spiegare in cosa consiste questa invidia del diavolo. Ecco, l'invidia del diavolo è perché noi sappiamo che quando, nel racconto della Genesi, Dio crea Adamo ed Eva, li crea immortali, ecco, non sono destinati a morire. Il diavolo, il serpente, che è invidioso della loro felicità, di quella felicità che era anche sua, ma che poi ha perso ribellandosi contro Dio, allora inganna Adamo ed Eva, meglio Eva e Adamo per la precisione, e quindi la conseguenza di questo inganno, la conseguenza della scelta di prendere il frutto di Eva e quindi poi di Adamo è la morte, cioè non essere più immortali, non avere più la conoscenza del bene e del male, avere sapere appunto qual è la cosa bella, appunto la bellezza. Noi pensiamo di conoscere ciò che è bene e ciò che è male, ma spesso noi confondiamo, o meglio chiamiamo male il bene, bene il male, quando appunto non è così, siamo un po' confusi. Quando Dio ha creato l'essere umano non c'era questa confusione, la sapienza era appunto perfetta. Ecco perché si dice che la morte è entrata nel mondo per invidare il diavolo, perché il diavolo ha tentato, Adamo ed Eva, ha tentato i nostri progenitori, secondo appunto la spiegazione che ne dà il Libro Sacro, perché era invidioso, era invidioso della loro comunione con Dio, era invidioso dell'amore che Dio aveva per l'uomo e la donna, per l'essere umano. E allora facendo questa cosa voleva vedere, vabbè innanzitutto voleva trascinare l'essere umano nel peccato, e secondo voleva vedere se l'amore di Dio sarebbe venuto o meno. Ma noi sappiamo appunto con la Pasqua che il suo amore addirittura ha voluto donarci suo figlio perché ci riscattasse dalla morte e con la sua risurrezione ci rendesse partecipi ancora della vita del Ceno. Grazie e alla prossima. Grazie. 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 Grazie.